Ben ritrovati, ieri il Consiglio di Amministrazione della Juventus ha approvato il bilancio consolidato per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2022 che evidenzia una perdita di 254,3 milioni di cui 209,9 al 30 giugno 2021. Ve lo dico subito, non farò un'analisi di questi numeri, non mi addentrerò in un campo che non è il mio, poi è chiaro che ora un giornalista calcistico anche deve prendere confidenza con la materia, quindi ho letto il comunicato della Juventus, ho letto le varie voci, però credo che ci siano persone molto molto più qualificate e sottoscritto per farvi un piano un po' più concreto su quale sia la situazione attuale dei conti juventini e quindi sarebbe inutile che poi io cercassi di scimmiottare queste persone, penso per esempio a Marco Iaria sulle colonne della Gazzetta dello Sport che è sempre totale nella sua analisi, anche lo stesso Giovanni Capuano di Panorama, insomma su altri lì di nella giornata odierna potrete trovare sicuramente il quadro molto più chiaro. Mi limito a dirvi però, mi limito a dirvi di fare molta attenzione a farvi condizionare dalla portata di questi numeri che sicuramente è imponente perché se leggiamo che la perdita è di 254 milioni, sicuramente il tifoso medio o un interrogativo se lo pone però dobbiamo anche considerare la posizione finanziaria netta della società che è migliorata dobbiamo considerare poi come il bilancio sia stato pesantemente condizionato anche dagli effetti della pandemia insomma questi numeri non vanno interpretati, cioè vanno analizzati chirurgicamente per cercare di capire verso quale direzione sta andando la Juve e vi posso anticipare, ma credo che sia il segreto di Pulcinella che la Juve vuole andare concretamente, anche in maniera netta con il suo AD, Maurizio arriva bene verso la piena sostenibilità mettendo il mirino anche in maniera graduale il pareggio di bilancio poi è chiaro che determinati obiettivi finanziari possono essere raggiunti non dico esclusivamente ma principalmente anche con un certo tipo di percorso sportivo e qui ogni riferimento alla qualificazione in Champions è puramente voluto e che si parli di Champions per quanto concerne la fase di eliminazione diretta in questa stagione e che si parli proprio di arrivare in Champions, di disputare la prossima Champions arrivando quantomeno tra le prime quattro in questo campionato quindi occhio a farvi condizionare da questa perdita di 254 milioni che è il record assoluto in negativo, se non sbaglio, del calcio italiano ma da contestualizzare al tipo di percorso intrapreso da Juventus soprattutto adesso con l'arrivo della di Maurizio arriva bene su quanto sia banalmente accaduto in questo mondo con la pandemia che inevitabilmente poi ha preso sopravvento e ha condizionato pesantemente i conti delle società vi ho sempre detto che più è grande una società e più è stata impattata da questo maledetto coronavirus sicuramente abbiamo capito come ieri poi ci fossero tantissime fake news bisogna fare anche molta attenzione a questo punto di vista questa voce che è imbalzata su delle ipotetiche dimissioni di Pavel Ned ma lo avevamo già detto, il CDA non entra nelle dinamiche di campo dà delle linee guida, principalmente con una visione economica ma non decide di allontanare per esempio l'allenatore e per giorni ci siamo trascinati questa voce non la definisco neanche indiscrezione, bensì fake news riguardante un possibile coinvolgimento in prima persona del CDA che potesse mettere alla porta Max Allegri ma chi dice questo non ha la benché minima conoscenza della materia ciò non sarebbe potuto accadere ovviamente non è accaduto minimamente ma mi sembra anche banale e ovvio sottolinearlo così come tutte le altre voci non sono andate in scena su tutte quelle riguardante un possibile passo indietro di Pavel Nedved che avrebbe voluto rassegnare dimissioni in concomitanza con il fatto che non fosse stato allontanato Max Allegri ecco, tutte queste voci ci devono far capire davvero come la Juventus sia finita nelle sabbie mobili perché solitamente un clima così respirabile delle voci così incontrollate emergono quando non si capisce niente e in questo momento credo che si faccia molta fatica a capire qualcosa di questa Juventus e non che deve risollevarsi nel minor tempo possibile perché bisogna cambiare andamento anche in favore dei conti come vi spiegavo soprattutto in Europa dove la Champions League è la condizion sine qua non per cercare di navigare in acque più tranquille anche dal punto di vista economico il clima di nuovo perché poi la Juventus ha continuato a allenarsi con i supersi dalle nazionali con la Next Gen a di nuovo ve l'ho detto in questa pausa ragazzi non si può benché in mente pensare che ci possano essere dei miglioramenti dal punto di vista tecnico e tattico semplicemente perché non ci sono i calciatori non si può lavorare in determinata maniera si sta operando per tentare di recuperare nel miglior modo possibile nel minor tempo possibile i vari Manuel Locatelli Adrian Rabiot il discorso Federico Chiesa è assolutamente un discorso a parte da l'auspicio che possa fare qualche apparizione prima del Mondiale da questo punto di vista timidamente i segnali sono positivi perché dico timidamente perché dobbiamo sempre considerare la straordinarietà dell'infortunio la gravità dello stesso e di come poi non si voglia incappare in brutte sorprese qui la linea di Max Allegri quindi della Juventus è sempre stata molto chiara al 100% Chiesa secondo la tabella stipulata deve arrivarci a gennaio quindi mettendo nel mirino la seconda parte di stagione è chiaro che rivederlo in campo prima che poi prenda via il Mondiale in Qatar sarebbe anche diciamo un'iniezione di fiducia a tutto l'ambiente perché poi c'è bisogno come il pane che Chiesa performi in una determinata maniera perché parliamo di un assoluto top player al quale però non va addossata la responsabilità di questo avvio brutto di questo avvio tremendamente brutto della Juventus cosa voglio dire di assunto Chiesa rientra a un grave infortunio quindi questa stagione dovrà utilizzarla per rimettersi sicuramente al 100% dal punto di vista fisico ma lavorare soprattutto di testa pensare che Chiesa rientra da un infortunio così grave possa rendere subito al 101% e possa risolvere tutti i problemi sarebbe l'ennesima follia di questa quantomeno prima parte di stagione lo stesso discorso va esteso a Paul Pogba qui il quadro è totalmente differente perché la scelta effettuata in prima persona dal calciatore si è rivelata davvero folle perché gli ha fatto perdere tutta la prima parte della stagione della Juve e mette a serio rischio il fatto che lui possa andare ai mondiali con la Francia questo però è un argomento che non interessa minimamente il mondo Juve che invece ha interesse come a recuperare Pogba per la seconda parte di stagione insomma il clima è quello che è ci trasciniamo questa lunga crisi con il post Monza Juventus ormai da giorni e non potrebbe essere altrimenti perché i risultati quando sono così negativi finiscono per condizionare l'umore e non solo i giudizi direi le analisi non solo di addetti lavori ma anche degli stessi tifosi che in questo momento sono giustamente legittimamente giustamente arrabbiati un pochettino con tutti nel senso che mettono principalmente chi più chi meno nel mirino l'allenatore ma credo che in questo momento il tifoso juventino si senta smarrito perché non riesce a vedere minimamente il bicchiere mezzo pieno considerando come da qualsiasi parte si guardi la Juve in questo momento regni la purissima incertezza insomma ragazzi i numeri del CDA mi raccomando andate sui quotidiani specializzati sui profili specializzati che possano in qualche modo fare luce su questo tema perché sono numeri che possono spaventare soprattutto se non si ha conoscenza della materia e quindi io come voi cerco di documentare documentarmi un abbraccio